I fondi per la cultura stanziati dal Cipe comprendono 20 milioni di euro destinati alle isole Tremiti, lo dichiara il sottosegretario dello sviluppo economico e al commercio internazionale Ivan Scalfarotto. Così il governo Renzi risponde con i fatti alla disonestà intellettuale di chi sosteneva che le isole sarebbero state svendute ai petrolieri e annegate nel greggio. I risultati sono l'unica cosa che Conde spiega. Scalfarotto desidera sottolineare e prosegue che non si tratta di un provvedimento estemporaneo, come ha spiegato il ministro Franceschini, l'intervento sulla cultura che ha un ammontare complessivo di un miliardo destinato soprattutto alla valorizzazione del mezzogiorno e in termini di attrattiva turistica culturale. Un intervento necessario ed utile considerando che la maggior parte di questo fuso turistico ignora la località del sud. La storia, la cultura, la natura e la bellezza contribuiscono in parte uguali ad un'offerta impareggiabile che bisogna valorizzare, conclude Scalfarotto. Lo si sa bene ed è importante che siano maggiori risorse a farlo anche in quel luogo meraviglioso come le Tremiti. La Presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini, ha chiuso la sua due giorni pugliesi in Capitanata. Dopo essere stata a Mesagne per la festa del lavoro e a Bari per parlare di mafia ed immigrazione, nel pomeriggio l'Onorevole Boldrini è stata da Scolisatriano per inaugurare i mosaici della palestra nella Villa Tardo Antica di Faragola e per ricevere la massima onorificenza cittadina i grifoni d'oro Boldrini è stata ricevuta dalle massime autorità civili e militari della provincia di Foggia e ha evidenziato che la Puglia è una miniera di eccellenze e che la Capitanata rappresenta il fiore all'occhiello non solo per il turismo balneare ma anche per quello storico-culturale. Anche una località piccola come Ascoli-Satriano può diventare un polo di attrazione culturale grazie agli scavi che sono stati fatti. Questo è un sito straordinario che racchiude tanti reperti di ere diverse e poi ci sono i grifoni. Questi grifoni che sono meravigliosi sia perché sono veramente esteticamente bellissimi ma anche per la storia del loro ritrovamento. Ecco tutto questo io credo che debba essere valorizzato per questo motivo sono qui a livello istituzionale perché ritengo che le istituzioni debbano valorizzare la cultura e debbano valorizzare i territori dove si investe in cultura. Il Presidente della Camera ha aggiunto che il Governo sta puntando molto sulla cultura e gli ultimi fondi stanziati anche per la Puglia fanno ben sperare per il rilancio socio-economico di questa terra. Un euro speso in cultura è due euro restituiti alla collettività, quindi perché questo? Perché la cultura alimenta tutto l'indotto, fa volano ad altre attività, al turismo, ai trasporti, alle infrastrutture, a tutto quello che sta intorno alla presenza dei turisti, cioè quindi anche gli alberghi, i ristoranti, quindi è un investimento sacrosanto. Io sono felice di vedere che adesso per la prima volta è stato fatto questo buon investimento da parte del Cipe, un miliardo in cultura e due miliardi e mezzo in ricerca. Festival della ricerca e dell'innovazione. L'Università di Foggia, la dodicesima tra i medi atenei italiani per la qualità della propria ricerca scientifica, si mette in gioco. Dalla 19 al 21 maggio l'Unifg allestisce e organizza il primo Festival della ricerca e dell'innovazione. Incontri, ribatti di idee, manifestazioni, eventi, attività sportive, ludiche, presentazioni di lavori scientifici, e divulgazione didattica attraverso i luoghi simbolo della città di Foggia, tutto coinvolgendo il patrimonio più grande di un'università che dispone come i suoi studenti. Tutto il ricavato della prima edizione del Festival della ricerca e dell'innovazione dell'Università di Foggia sarà devoluto in beneficenza. Manfredonia, revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali. Il sindaco di Manfredonia, rende noto che dall'1 al 5 del mese di maggio sono depositati nella segreteria comunale i provvedimenti del responsabile dell'ufficio elettorale comunale relativi alle variazioni delle liste elettorali contenenti gli elenchi degli elettori iscritti e degli elettori cancellati. Ogni cittadino può, entro tale periodo, prendere visione, ovvero le decisioni adottate dal responsabile dell'ufficio elettorale comunale. Ogni cittadino ha la facoltà di proporre ricorso alla commissione elettorale circondariale non oltre il 10 del predetto mese di maggio. Ase aumentano le tonnellate di organico conferito 7.600 kg di organico l'incremento sostanziale fatto registrare nella sola giornata di ieri dalla raccolta differenziata porta a porta è significativo rispetto alla familiarità, praticità ed apprezzamento espresso dagli 11.000 utenti dell'area 1 cioè di Vittoria e Comparte di Manfredonia nei confronti del nuovo servizio reso dall'Ase all'amministrazione comunale. I rifiuti che non sono finiti in discarica ma sono già stati conferiti presso l'apposito impianto di filiere trasformati oltre che ad aver garantito maggiore igiene del coro urbano per gli spazi pubblici interessati e nelle prossime ore sarà comunicata la data d'inizio della zona successiva. Piazzale delle Capitanerie oggi intitolazione della nuova piazza nell'ambito delle celebrazioni del 150esimo anniversario della fondazione del corpo delle Capitanerie di Porto la cerimonia di intitolazione di Piazzale delle Capitanerie di Porto alla quale prenderà parte il comandante generale che è delle Capitanerie di Porto l'ammiraglio ispettore Vincenzo Melone unitamente alle massime autorità civili e militari della provincia. la manifestazione durante la quale ci sarà la benedizione della targa a memoria da parte di Sua Eccellenza Monsignor Michele Castoro a Civescovo della Diocesi di Manfroni Vies e San Giovanni Rotondo avrà luogo presso il piazzale compreso tra lo stadio Miramare e via Alessandro Volt a sud dell'edificio De Santis. Grazie a tutti!